Ciao, sono Lorenzo Vecchia e sono chef e proiettario del ristorante Aimee a Bologna. Il concetto di Aimee è un concetto un po' particolare, abbiamo cercato di creare un ristorante che fosse per tutti, ma davvero per tutti, quindi che renda contento il foodie abitué dei ristoranti un po' più particolari diciamo, ma riesca anche a avvicinare una clientela un po' più base in termini di esperienze e che riesca quindi a piacere un po' a tutti quanti, quindi chiunque può star bene fondamentalmente. Noi siamo un gruppo di amici, non ci si dà del lei, non ci si dà chef, non chef, ci interessa venire al lavoro e essere felici. Di unico nell'esperienza degli ospiti di Aimee c'è la possibilità di trovare un prodotto curato con della materia prima davvero selezionata, la quale molto autoprodotta e probabilmente mangiare qualcosa che potrebbe essere servito in ristoranti di alto livello ma comunque a prezzi eccessibili e con un'informalità di servizio unica. Le sfide più grandi quando si gestisce un ristorante sono tante, anche le sfide più piccole diventano grandi. La parte più difficile è quella di mantenere il gruppo con cui si lavora motivato e far sì che tutti tirino dalla stessa parte. Ho scelto di utilizzare Superb perché secondo me è molto semplice, sia come interfaccia da parte nostra che lo utilizziamo come gestionale, sia da parte dell'utente che lo utilizza per effettuare la pronotazione. È molto chiaro, i passaggi sono pochi, le informazioni si possono definire in maniera super chiara per tutti e quindi è molto comodo. Superb rispetto a tutti gli altri sistemi di pronotazione che abbiamo usato ha sicuramente la facilità di utilizzo, la comodità e l'automazione della gestione delle pronotazioni. Fare in modo che tutte le combinazioni dei tavoli combacino sempre perfettamente, Superb lo fa in automatico e ci fa risparmiare tanto tempo e tante energie. tanti gestionali hanno tante funzioni utili ma Superb ha un'interfaccia molto pulita, molto interattiva, semplicità di utilizzo al massimo i livelli e quindi chiunque va dentro è in grado di utilizzarlo, dall'ultimo ragazzo arrivato in cucina che non ha mai visto a noi che magari ci lavoriamo già da qualche anno. Superb mi ha aiutato molto, devo dire, nella gestione dei tavoli, nella riduzione dei no show, mi ha aiutato tantissimo avere la tracciabilità del cliente, quindi anche a vedere quante volte un cliente torna nel mio locale e questo è fondamentale anche per noi in cucina, magari insegnarci cosa ho già mangiato, cosa non ho mangiato, allergie e quant'altro. La tracciabilità del cliente Superb mi ha aiutato davvero tanto. Anche quando siamo fuori da qua riusciamo a controllare sempre in tempo reale le prenotazioni, il numero di clienti che abbiamo, quindi non siamo mai colti allo sprovvista, siamo sempre a aspettarci e oltretutto è molto facile inserire nuove prenotazioni e vengono fatte in tempo reale, quindi chiunque può farlo in qualsiasi momento, questo è molto comodo. Un ristorante dovrebbe scegliere Super per crescere perché è un gestionale che si evolve con te, quindi non è un sistema fatto e finito dal momento uno che io inizio a utilizzare, ma ci sono sempre varie funzioni che andrai sempre a scoprire e può sempre essere migliore come tu lo hai. Descriverei Superb in tre parole con comodo, performante, elegante.